buongiorno questa domenica è un po' fredda guardate, è incredibile la finezza la buona ma nonostante guardate anche questo è pronto mi auguro una bellissima domenica e il prossimo sabato siamo a Estanghela alle 18.18 per questa mostra delle donne coraggiosse vi auguro una bellissima domenica siamo nella Venecian Sog